Si scaldano i motori dell'83esima edizione della campionaria generale internazionale della Fiera del Levante dove pulsano le idee organizzata dalla nuova Fiera del Levante che si svolgerà dal 14 al 22 settembre. Sono aperte infatti le candidature per la gestione di servizi di biglietteria, infopoint, sicurezza, hostess, steward e la logistica della manifestazione firistica. Sarà possibile inviare curricula, foto e dati personali all'indirizzo candidature fdl-vivaevents.it entro domenica 8 settembre 2019. Il tema dell'edizione 2019 della campionaria sarà incentrato sul cambiamento climatico e transizione energetica, innovazione tecnologica e futuro del lavoro, lotta alla povertà e diseguaglianze, salute e sicurezza alimentare, educazione e formazione continua, cooperazione internazionale, infrastrutture e mobilità sostenibile, dialogo interreligioso, protezione dell'ambiente e sviluppo economico. Tutto parte dalle istanze rappresentate dagli studenti protagonisti degli scioperi del clima in tutto il mondo. L'appello è stato raccolto dalla nuova Fiera del Levante che ha organizzato la campagna di sensibilizzazione non abbiamo un pianeta B. Il calendario comunque si preannuncia ricco di eventi e spettacoli consultabili su www.fieradellevante.it a cui si potrà accedere con un biglietto che resta di 3 euro. Avranno diritto ad uno sconto del 50% gli over 65 e coloro che si serviranno del servizio park and ride. Potranno invece accedere gratuitamente coloro che giungeranno in fiera con la bicicletta parcheggiandola nel preposto parcheggio gratuito, le persone disabili e di loro rispettivi accompagnatori e di bambini al di sotto dei 6 anni oppure del metro di altezza.